Tre serie tv del 2022 che se non l'avete ancora visto dovreste recuperare. The Beer La serie tv con protagonista Jeremy Allen White, attore che magari conoscete per il suo rollo di leap in Shameless, è stata una delle sorprese dell'anno. Trasmessa in Italia su Disney+, ma prodotto originale Ulu, tratta di uno dei migliori chef in circolazione che prevede la morte del fratello, si ritrova a gestire la paninoteca di famiglia. Ambientata a Chicago, è una serie tv molto empatica e vi farà vivere emozioni quali ansia, rabbia, tristezza e felicità. Jeremy Allen White ha appena vinto il Golden Globes come miglior attore in una serie tv comedy o musical, tra l'altro vittoria meritatissima. Personalmente la reputo la migliore serie tv dell'anno, Alice in Borderland. Era uscita prima di Squid Game, ma era passata un po' in sordina la prima stagione anche per vedere il mega successo della serie tv coreana. Alice, tratta da un manga, è una serie tv giapponese che si conclude con questa seconda stagione. Trasmessa su Netflix, parla di un momento che potrebbe cambiare la vita a tantissime persone a Tokyo. Ambientata inizialmente nel quartiere di Shibuya, tante persone durante il giorno vedono dei fuochi di artificio e si ritrovano in una Tokyo diversa da quella che conoscevano. Tante missioni, tanti giochi, per guadagnarsi del tempo extra per rimanere vivi e capire cosa sia successo. Cruenta e molto emozionale, la prima stagione è pazzesca, la seconda meno, ma è comunque conclusiva. Quest'anno poi uscirà un manga spin-off, ma non vi dico di cosa tratterà per evitare spoiler. Per chi è interessato sarà probabilmente di un solo numero. The Patient. È una miniserie che ha seguito lo stesso percorso di The Beer, produzione Ulu e arrivata in Italia su Disney+. Avere come protagonista Steve Carell potrebbe far pensare ad alcuni a qualcosa di comico, ma negli ultimi anni si è tuffati in ruoli seri e drammatici, riuscendo a interpretare dei ruoli di grande livello anche in questi generi. Immaginate, ti è morta la moglie, provi a immergerti nel tuo lavoro di psicoterapeuta e ci sta che ti possa arrivare qualche paziente più particolare rispetto ad altri. Però cosa succede se uno dei nuovi pazienti è un assassino seriale e questo poi ti rapisce al fine di frenare su impulsi omicidi? Rispetto alle altre due serie consigliate è molto più lenta, ma comunque molto potenziale. Qual è stata la vostra serie tv preferita del 2022? Queste tre le avevate già viste? Da Amere Mercoledì dovreste averle già viste tutti o quasi. Quindi abbiamo preferito dirvi.